Diciamo che i compagni mi hanno fatto questo regalo perché sono stati due splendidi assist di Fabio Campo e di Paolo Genovese e mi hanno messo una palla meravigliosa, quindi è stato un doppio regalo sia da parte mia che da parte loro. L'importante comunque oggi era ritrovare i tre punti perché ci mancavano da tanto tempo, in settimana abbiamo cercato di fare ancora più gruppi, di stare più uniti possibili e in campo poi si è visto, abbiamo remato tutti dalla stessa parte, penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo capito da dicembre ad oggi che nonostante la vittoria non arrivasse da sette partite senza vittorie, siamo ancora lì, siamo arrivati in testa alla classifica, nonostante le sette partite senza vittorie siamo rimasti comunque aggrappati al gruppone playoff. Questa vittoria un attimino ci rilancia da questo punto di vista, quindi non dobbiamo pensare troppo alla classifica, oggi era importantissimo vincere, l'abbiamo fatto, adesso pensiamo a mercoledì, a questa partita che per noi è fondamentale, andiamo lì con la stessa mentalità, la stessa concentrazione e vedremo quello che capiterà.